La targa per ricordare Vincenzo Liguori, 57 anni, vittima innocente della Camorra, ucciso in un agguato il 13 gennaio del 2011, mentre si trovava nella sua officina meccanica in via San Giorgio Vecchio, nel comune di San Giorgio a Cremano. Ed è proprio l'amministrazione comunale a voler ricordare Vincenzo con la targa fissa all'interno del centro polifunzionale della cittadina in via Recanati. Assessore, oggi il foyer del centro polifunzionale sarà intitolato a Vincenzo Liguori, una vittima innocente della Camorra, della criminalità organizzata. Questo teatro è stato già intitolato a Giancarlo Siani e prima ancora a Peppino Impastato. Tantissimi nomi che vogliono rappresentare lo sforzo della città di San Giorgio di dire no alle mafie nel giorno proprio della commemorazione. Sì, noi pensiamo che dai giovani deve partire il messaggio forte a tutta la cittadinanza, a tutte le istituzioni per dire no a San Giorgio a Cremano, è contro le mafie, è contro la Camorra. E' un segnale del genere, intitolare il foyer del centro polifunzionale dedicato ai giovani a Vincenzo Liguori, è un ulteriore segnale forte che noi diamo alla cittadinanza per dire noi siamo con le istituzioni, siamo vicini alle vittime e siamo contro la mafia di qualsiasi tipo e genere che ci sia. Presente alla cerimonia anche la figlia di Vincenzo, Meri, cronista del quotidiano Il Mattino, che quel tragico giorno fu per errore inviata sul luogo del delitto dal suo giornale. Quando dalla redazione scoprirono la tragica coincidenza era troppo tardi, la ragazza aveva appreso della morte per errore del padre dalle persone accorse sul luogo. Il vero obiettivo di quell'agguato era Luigi Formicola, 56 anni, titolare di un circolo ricreativo. Ucciso Formicola, i due sicari si allontanarono a bordo di una moto a tutta velocità, per poi tornare indietro, aprendo il fuoco e uccidendo Vincenzo Liguori. Il 20 dicembre del 2012 l'arresto di killer e mandanti. Si trattava di Vincenzo Troia, 33 anni, reggente dell'omonima cosca di San Giorgio a Cremano e dei suoi cognati Andrea e Giuseppe Attanasio, 27 e 31 anni, ritenuti vicini al clan Mazzarella.